Fine del secondo giorno di gara con Luca Cantamessa che si è guardato tutte le prove, oltre ad essere andato in tutti i vari paddock durante i tempi morti, che qui a Monza comunque non esistono. Leggiamo la classifica direttamente dal PC perché è appena finita l'ultima prova speciale. Valentino Rossi davanti a Cairoli e Neville. Luca Cantamessa, te lo aspettavi? Quello che avevamo dichiarato ieri, dove davamo per favoriti Rossi e Neville, l'inserimento di Cairoli non dico che è una sorpresa perché già l'anno scorso fece ottime prestazioni, solo perché ieri sera ci siamo dimenticati di citarlo. Questo è il punto. Molto bravi, molto bravi e Neville ha avuto qualche difficoltà di scelta di gomme e di mescola. È partito per la prima Grand Prix dove ha causato un forte gap, dove ha montato una mescola molto dura ma soprattutto ha rigidito troppo la macchina. Quindi ha perso tantissimo e era lentissimo nelle inversioni, proprio avvisivamente lo vedevi in difficoltà. Per il resto ha fatto delle prove eccezionali e ne ha vinte forse quello che ne ha vinte di più della giornata. Non l'ho verificato. Direi bene anche Bosca, direi bene tutti quelli a seguire. C'è una bella lotta dietro. È chiaro che Valentino è lassù e secondo me è imprendibile. Dopo i primi tre abbiamo parlato di Bosca che ha confermato il suo valore con l'altra Hyundai. Dopodiché, nonostante Pedersoli, Salucci, Grotte, soprattutto il Belga che sta andando abbastanza bene, mancano due nomi che stanno andando comunque bene, Perico e Longhi. Li vediamo fuori classifica. Vuoi spiegare tu un motivo? Alle verifiche di peso, finita la prova speciale, sono risultati sotto peso. Uno di 5 kg e l'altro di 9 kg. La direzione gara, in collaborazione con i commissari, hanno dato una penalità di un minuto. E chiaramente sono scivolati indietro in classifica perché su una gara che fino ad ora è durata un'ora e più, qua si gioca tutto sui secondi. Figuriamoci un minuto, l'abbiamo fatto perdere tantissime posizioni. Senti classere 5, abbiamo Andreucci per default in testa. Babbini che doveva essere un po' l'avversario, ha perso un po' di tempo, è venuto fuori comunque con Sanico. Come perché guida Anna oggi? Oggi ho guidato Anna, infatti è andata molto bene, molto bene, l'altro un po' vecchio, quindi no, complimenti, Paolo non si smentisce mai. Assolutamente, è bravissimo, già da ieri sera ha fatto una roba allucinante di notte, ma l'aveva già fatta l'anno precedente, è due anni prima e quattro anni fa. Di notte Paolo alza pochissimo i tempi rispetto al giorno e l'abbiamo verificato oggi. L'uomo da battere sempre, comunque e ovunque, questo è un po' noioso, devo essere sincero, però è giusto così, d'altronde è colui che si prepara al meglio. Bisognerebbe studiare qualcosa per cambiare, magari un campionato italiano diverso l'anno prossimo? Io vorrei farlo diventare papà, magari gli passa un po' la voglia e vediamo come va a finire. No, a parte gli scherzi, non c'è niente da fare, bisogna andare più forte di lui, in questo momento è difficilissimo. Babini ha fatto una bella gara, anche se pensavo fosse più competitivo all'inizio, invece ci ha messo un attimo a prendere il feeling con la vettura. Qualche problemino l'ha avuto anche lui. Se posso essere sincero, chi mi ha stupito in classe R5 è stato Alessandro Re, che bene o male sta facendo una bellissima gara e si è dimostrato all'altezza anche nelle prove più impegnative. Ha qualche problemino verso quando cala l'oscurità, però per il resto secondo me è andato molto bene oggi. L'ultima cosa, domani mattina la Grand Prix potrebbe cambiare qualcosa nei giochi o i giochi sono fatti? Nell'assoluta direi che a livello del primo posto, se non succede veramente qualcosa di particolare, direi che Rossi è la strada spianata. Cairoli deve stare attento perché ha dietro Neville di 7 secondi e con la Grand Prix, oggi ha sbagliato le gomme sulla prima, sulla seconda ha dato che domani magari trovano delle altre soluzioni, neanche magari adattando l'assetto alle gomme che stanno utilizzando e potrebbe cercare di recuperare. E poi ci sono un paio di piloti, Bosca, Brivio, nelle posizioni di rincalzo che sono molto vicini, quindi tutto può ancora succedere in teoria, però la vedo sulle posizioni di rincalzo la lotta. In testa, secondo me, la strada è bella, ampia, larga e verniciata di giallo. Ok, grazie di tutto, ci sentiamo fra due prove speciali domani mattina dopo per la chiusura del Monza Rally Show e poi ci sentiamo con il tuo commento, il Master Show, poi sul nostro sito daremo tutti i dettagli per vedere in streaming la diretta del Master. Ciao a tutti, è stato un piacere, è stata lunga oggi, veramente lunga.